Adesso ha la parola Jessica Legni. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono veramente molto felice di essere qui. È un momento che attendiamo da tempo e che arriva probabilmente con un po' di ritardo. Il congresso è finito, ma quello che non possiamo permetterci di fare è disperdere quelle energie e quelle passioni che con quella battaglia siamo riusciti a tenere insieme, a mobilitare, evitando seppure solo in parte purtroppo. L'abbandono silenzioso di chi ha smesso di sentirsi a casa in questo partito. E allora io vorrei partire da qui. Da cosa possiamo fare noi per restituire al PD i connotati di un luogo aperto, plurale, in cui le diversità possono e devono essere un punto di forza e non un punto di debolezza, e in cui la proposta di una sinistra rinnovata possa realmente contribuire a dare forza e qualità alla nostra azione politica. È nato un cambiamento rapido e netto dei tratti identitari della politica, non solo nel nostro partito. Ai contenuti spesso si sostituisce l'annuncio, il messaggio mediatico, l'idea che improvvisamente tutto sia diventato più facile. A una democrazia collegiale di classi dirigenti si sostituisce l'identificazione nel leader forte e veloce che non può considerare ostacoli che ne rallentino la corsa. E tutto questo, va detto, fa presa su un'opinione pubblica oggettivamente stanca, anche per demeriti nostri di una politica immobile, incapace di dare risposte ripiegata su se stessa. Io credo che le riforme del Governo vadano sostenute. Non c'è nulla di inventato, sono cose che promettiamo da tempo e da tempo rinviamo. Al tempo stesso però dobbiamo dire che queste riforme non si possono fare con i proclami. Non lo dico davvero con intento polemico, ma perché credo che dobbiamo rifiutare nettamente l'idea della democrazia e delle istituzioni viste come un costo, un peso, un intralcio burocratico, quando basterebbe creare le condizioni per elaborare un progetto di insieme che ne definisca utilità e funzioni per costruire un quadro istituzionale adatto a dare le risposte che servono alla vita della comunità. Faccio questo esempio perché credo che in questo momento il messaggio del PD sia fortissimo rispetto all'opinione pubblica e ne sono felice, ma al tempo stesso si sta dissolvendo il partito come organizzazione e luogo di elaborazione politica. Nei nostri circoli si discute sempre meno e soprattutto quando ci si riunisce siamo sempre meno e le discussioni più accese si fanno sull'organizzazione delle primarie, eccezionale strumento di democrazia, ma che non possono nella maniera più assoluta rappresentare l'unico momento in cui chiamiamo i nostri iscritti ed elettori a scegliere. Scegliere poi sulle persone, molto meno sui programmi che nei tempi strettissimi con cui le facciamo finiscono inevitabilmente in secondo piano alimentando la guerra tra fazioni. Allora forse quello che dovremo fare non è abdicare al nostro ruolo di partiti e classi dirigenti, ma aprirci davvero al cambiamento, che include anche un approccio più aperto, meno refrattare i nuovi mezzi di comunicazione, il ripensamento dei circoli, dei loro strumenti di azione politica, al fine di trasformarli davvero in punti di eccellenza in cui si discute di temi veri, un nuovo modo di organizzarsi, aprirsi all'esterno, coinvolgere persone e mondi che abbiamo lasciato fuori per troppo tempo, perché il fatto che ormai si discuta più su Facebook guardandosi negli occhi è segno di un deficit che il PD oggi sconta nella capacità di aggregare e coinvolgere le persone in un rapporto diretto che nonostante le innovazioni di cui abbiamo bisogno non può certo venire meno. E anche questo è segno di un partito che un po' teme la discussione, tende a rigettarla. A volte mi chiedo anche io se per stare nel PD sia necessario rinunciare totalmente a dire ciò che si pensa e sia chiaro che se la risposta fosse sì credo che mi troverei altro da fare. Quello che a volte si respira nei territori è la chiusura verso qualunque forma di dissenso, una chiusura che sfocia nella negazione del confronto. Io credo allora che dobbiamo essere leali, ma dicendo anche che non intendiamo rinunciare alla nostra dignità, che essere responsabili non significa annullare se stessi, che essere del PD deve tornare ad essere l'orgoglio di tutti noi, che dobbiamo poter concorrere ognuno per quello che ha da dare, a rafforzare il partito e farlo vivere nelle sue diversità. E vengo a noi. Io credo che se si vuole dare un senso alla sinistra oggi occorre chiarirsi su due aspetti. Il primo è che nel momento in cui si chiude il ciclo berlusconiano, la politica italiana ne assume i tratti personalistici e lideristici che in certi casi sfociano in un insopportabile populismo estremista. Il secondo è che la nostra cultura riformista, l'unica in grado di contrastare quei populismi, non è stata aggiornata in anni di grandi cambiamenti, scegliendo di galleggiare, determinando un deficit di cultura di governo anche a livello locale, che ha creato non pochi danni. E allora da qui dobbiamo ripartire e decidere fin da ora che non ci ritroveremo fra tre e quattro mesi. Io voglio credere a quello che ci hai detto Gianni, perché da subito dobbiamo costruire le condizioni per nuovi luoghi di incontro, di pensiero, di condivisione, mettendo le fondamenta di un progetto che non darà frutti nell'immediato, ma che deve traguardare la contingenza e darsi un respiro più lungo. A me non interessa una corrente tenuta in piedi solo per contrattare posti. Abbiamo già dato, abbiamo già pagato l'autoreferenzialità di gruppi dirigenti che negli anni hanno impedito la crescita di nuove leve e la possibilità di un'elaborazione politica condivisa. Io vorrei non vedere più riunioni parallele e contemporanee di gruppi che si dovrebbero riconoscere nella stessa area. Ora è il momento di mettere da parte rancori personali, esigenze particolari, tornaconti di singoli gruppi, per consentire a tutti noi che siamo qui oggi di poter continuare a fare politica nel PD con le nostre idee e la nostra passione. Ed è una cosa che non si fa investendo solo su qualche parlamentare e qualche eletto, anche qui segniamo un cambiamento. Il PD non è solo il partito degli eletti e tutte le persone che sono qui oggi lo dimostrano con evidenza. Persone che vogliono poter far sentire la propria voce, sentirsi partecipi e rimettersi in moto per quello in cui credono. E finisco. Per me il luogo da cui ripartire è qui oggi, non ce ne sono altri. E spero che ci daremo un'organizzazione solida, diffusa sul territorio, con coordinatori, referenti, responsabili di organizzazione, che fin da domani possano dare un seguito a quello che oggi ci stiamo dicendo. Diamoci un nome, un progetto, calendarizziamo i prossimi appuntamenti e partiamo. E diamo una mano a far sì che questo partito diventi una vera comunità. Prima Gianni richiamava a Berlinguer, ecco se c'è una cosa che io rivorrei del passato, una sola, è quel sentimento che traspare perfettamente dalle immagini dei funerali di Berlinguer, un popolo intero, unito da un'identica sofferenza, frutto della condivisione di una storia, di valori, di sentimenti anche. Io credo che ci sia bisogno anche di un po' più di cuore e credo che qui oggi ce ne sia parecchio. Quindi andiamo avanti senza paura. Noi ci siamo. Grazie.